Il prossimo anno giocherai ancora con la maglia della Roma? Non lo so, ne so quanto voi i club si stanno parlando. La vittoria di oggi è passata anche dalle tue due valate? Sono contento di aiutare la squadra, a volte ho fatto un errore, quindi oggi ho provato di prendere i punti per la squadra. Sono contento qualche volta di aiutare la squadra, a volte faccio un errore, questo ci costa un gol, come è capitato con la Lazio, oggi invece ho contribuito alla vittoria e ne sono contento. Grazie